La festività di Ogni Santi si avvicina e Arezzo Multiservizi presenta alla cittadinanza i servizi e le nuove iniziative per migliorare l'accessibilità e la sicurezza dei cittadini nei siti cimiteriali. Come ogni anno, anche quest'anno, Arezzo Multiservizi ha messo in campo delle forze per garantire la sicurezza nei siti cimiteriali. Abbiamo messo il servizio di avviengeranza armata che sarà nei prossimi giorni integrato da antitaccheggio. Inoltre, sono state attivate 10 telecamere che mettono sotto controllo i nuovi cancelli che sono stati posizionati e tutti gli ingressi del cimitero. Tante anche le novità previste per questo anno. Una fra tutte è la presenza di un'opera d'arte dal titolo L'Angelo Ferito. Le novità, oltre alle telecamere che l'anno scorso non c'erano, abbiamo messo anche in funzione dei servizi igienici nella parte alta del cimitero, nuove cancellate. E in più oggi, con soddisfazione, abbiamo ricevuto in dono da uno scultore di Arezzo, il professor Ivo Giubilei, una scultura che oggi presentiamo alla cittadinanza. Una scultura che ha un simbolo religioso, si chiama l'Angelo Ferito, quindi secondo me è completamente idoneo al momento del cimitero, è un passaggio. Un po' ritornano le sculture di una volta, in cui la morte veniva rappresentata non con la lapide e il nome, ma con una figura che era l'Angelo, era la colonna spezzata, era un simbolo. Io ho pensato di tornarlo qui al cimitero, perché essendo il cimitero una cosa dove ci sono tutti defunti cari, essendo anche un luogo di meditazione e di ripensamento, mi sembrava quello più adatto per il tipo di soggetto, cioè l'Angelo Ferito che rappresenta un po' il dolore della persona e poi la speranza dell'aldilà. Grazie.